Nel pomeriggio di ieri la Direzione Generale dell'Asp ha incontrato le organizzazioni sindacali per parlare della rimodulazione delle ore di servizio del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari reclutati durante il periodo dell'emergenza pandemica che saranno in servizio fino al 30 giugno. Del personale reclutato 238 sono osse, di questi 53 sarebbero in esubero e 103 infermieri. La proposta della Direzione Generale è stata quella di elevare a tutti l'orario settimanale lavorativo da 28 ore a 30 ore e quindi 120 ore mensili. Intanto si attende l'avvio delle procedure di stabilizzazione cui seguiranno i concorsi. Dice il commissario straordinario Alessandro Caltagirone, durante il periodo pandemico abbiamo fatto il reclutamento di osse e infermieri con cui abbiamo risposto alle esigenze emergenziali. Tuttavia questo ha portato a uno sbordamento del personale sia infermieristico che osse rispetto alla dotazione organica. Le norme che sono entrate in vigore hanno permesso a questi lavoratori di poter godere di un diritto di stabilizzazione se hanno raggiunto i parametri di stabilizzazione. Da lì sono nati i provvedimenti di proroga. Tuttavia, siccome il numero di lavoratori è superiore rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica, abbiamo tenuto tutti in servizio con un monte ore di 28 ore settimanali in attesa della stabilizzazione. Poi ieri ho proposto l'aumento a 30 ore settimanali, quindi 120 ore mensili, che rende più compatibile la gestione dei turni. Proprio in merito ai turni, la FP CGL ha deciso di non firmare la proposta presentata ieri dalla direzione e ha piuttosto avanzato la controproposta di innalzare l'orario settimanale di infermieri e osse a una turnazione di 36 ore settimanali, come spiega Alessandro Lamarca del coordinamento provinciale sanità CGL. La nostra proposta, dice, nasce dalla difficoltà di assicurare dei turni omogenei ed evitare ripercussioni anche sulla qualità delle prestazioni erogate dall'utenza, evitando anche un sovraccarico di lavoro su tutto il personale. Intanto il segretario provinciale della FIALS, Nissena, Gioacchino Zuppardo, chiede di avviare subito il percorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato all'ASP di Caltanissetta. Intanto in una nota, indirizzata all'assessore regionale Giovanna Volo e al commissario straordinario dell'ASP Alessandro Caltagirone, Il sindacato si è detto disponibile nell'immediato a proporre uno schema di regolamento per la valutazione dei titoli curriculari da discutere e approvare celermente in delegazione trattante. Al fine, continua la nota, di dare una buona percentuale dei lavoratori interessati la probabilità, non la certezza, di una prossima e auspicabile stabilizzazione. Ricorda ancora la nota che la normativa prevede la stabilizzazione del personale assunto tramite collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di contratti flessibili come le graduatorie cronologiche comunemente denominate Bando Click Day, sempre nel rispetto dei piani del fabbisogno.